E' stato presentato il nuovo cartellone teatrale del Teatro Comunale Eschilo di Gela, una rassegna teatrale poliedrica che potrà condentare i gusti di tutti gli spettatori. C'è di tutti e di più, è perché deve essere giustamente l'emblema del Teatro Eschilo. Il Teatro Eschilo è il primo teatro della città, il teatro del Comune di Gela e il teatro che insomma fa le opere di prosa, le opere un po' più importanti. Quindi addirittura quest'anno abbiamo finalmente creato un sogno che è quello di portare la lirica dentro il teatro. C'è stato richiesto per anni, finalmente quest'anno avremo un resital di opera lirica perché sono i cent'anni di Puccini, dalla morte di Puccini, e avremo un resital spettacolare. Viene Gianni Morandi a Gela? No, non verrà Gianni Morandi a Gela, ma i suoi figli, il figlio del maschietto e la femminuccia che racconteranno Gianni Morandi e si vedrà anche Gianni Morandi che parlerà col pubblico di Gela, per cui è una cosa molto carina con la famiglia Morandi. Come amministrazione siamo convinti che le attività culturali, teatrali e turistiche debbano essere al centro di una nuova agenda per Gela. Al netto delle polemiche il lavoro deve essere sempre quello di costruire il meglio possibile le prospettive di questa città perché Gela è una città di cultura, Gela è una città di storia, Gela è una città che ha un grande patrimonio culturale e noi siamo convinti che le attività teatrali possono essere per questa città una fisiologica risposta a quella che è la sua storia. Il teatro è certamente il centro nevralgico di una città. Una città che non ha teatro è una città povera culturalmente quindi sicuramente la presenza del teatro in città ha favorito la crescita culturale del nostro territorio e noi come amministrazione non possiamo che incoraggiare l'uso, la fruizione del teatro da parte della collettività tutta a cominciare dalle giovani generazioni e quindi per riconoscere la valenza educativa fondamentale che il teatro riveste. Per la prima volta alla conferenza di presentazione del calendario è stato invitato il presidente del Consiglio Comunale. Oggi ho avuto questo doppio privilegio non soltanto di partecipare alla presentazione appunto del cartellone ma ho scoperto durante la presentazione di essere il primo presidente ad aver avuto questo onore quindi un doppio privilegio essere oggi presente qui. Come dico sempre cultura deve essere un termine tanto ampio da far comprendere proprio il risveglio sociale di una città e il teatro è sicuramente una di queste fasi un teatro che deve essere dei gelesi oggi è stato presentato da Franco Longo un cartellone che abbraccia diversi gusti un cartellone trasversale quindi penso che possa ricomprendere appunto diversi interessi dei nostri concittadini spero anche da territori limitrofi. Quest'anno al Teatro Eschilo ci saranno due grandi eventi all'interno del Teatro Comunale sarà ospitato un corso di formazione per tecnici del suono e un corso sulle tecniche teatrali e di doppiaggio tenuto da Monica Ward un corso di teatro emozionale sarà poi dedicato esclusivamente alle ospiti della famiglia Egle. Noi abbiamo sempre fatto volontariato perché abbiamo creduto sempre che la cultura sia una forma di crescita culturale per tutti dagli adulti ai bambini eccetera quest'anno abbiamo voluto dedicarci a esattamente chi ha dei problemi che possono essere personali o familiari eccetera abbiamo offerto gratuitamente un corso di teatro emozionale e questo lo farò io personalmente a queste ragazze alla casa famiglia Egle è un corso gratuito per cui abbiamo stretto questo accordo una volta a settimana ci sarà su questo palco chiuso al pubblico chiaramente le ragazze della casa famiglia Egle che sperimenteranno una forma di incontro di terapia di associazionismo attraverso la forma teatrale attraverso la fa'